Un'idea in testa che non mi lascia in pace. Sto pensando che sarebbe fighissimo farmi tutto il Rio de la Mazzoni fino all'Oceano Atlantico. Siamo arrivati a Tarapote e siamo a la ricerca di una hamaca. Sto mi droga. Prima. 3-7. E dalla foto stiamo andando a Yurimaguas. Prenderemo un pulmino stretto stretto con altre 15 persone e ci metteremo due ore e mezza per arrivare. Eccoci arrivati a Yurimaguas e questa è la vista. Andiamo a Porto a vedere se ci vuole il barco che parte domani. Tra tutte le berghe che ho visto prenderò questa qua. La linea. Ho raggiunto l'accordo con il capitano. Sì. Gli appena. Mi amico. Hola. Su sueco. Felixt. 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 Si va al Porto. Viamo. Buongiorno siamo sulla barca Linares. E siamo pronti a salpare in pochi minuti quando finiranno di caricare quella furgone lì con arance. Salperemo verso Iquitos. Ci aspettano tre giorni di viaggio. e sarà meraviglioso. Stiamo ufficialmente partendo. Poi ci provo a dormiremo. Questo sarà il mio letto. Questa è una stanza dello spirito del tempo. e questo è il mio guaiac. La cucina. La volete vedere. Questa è un po' molto freddo. Questa è un po' molto freddo. Questa è un po' molto freddo. Fortunatamente avevo questa giacca con me, pantaloni termici e usato l'asciugamanno come coperta. Ci siamo risvegliati sul rio dell'Amazzoni, amici. buongiorno. Abbiamo arrivato a Iquitos. Ci fermeremo in questa cittadina amazzonica per un paio di giorni per recuperare forze idee e probabilmente fra due giorni riprenderemo un'altra di queste barche per andare a Letizia, arrivare in Colombia. Ecco l'ostello in Iquitos. Iquitos 40 gradi, che suda la pace. Il mercato di Belen, non è un posto per gente alta. Qua c'erano le sigarette giganti. Iquitos e siamo venuti a cercare una barca che parta oggi pomeriggio per arrivare a Santa Rosa dal confine con la Colombia. Compratele provviste per il Vege in barca fino a Letizia. Acqua, biscotti, banane, frutta e un po' di verdura, avocado, pane. Siamo pronti. Oggi prenderemo la barca con il nome del Grand Diego numero due per arrivare a Santa Rosa in due giorni per poi andare Letizia. La barca è un palla, è cittadino, è il 과 al ricino che non sei capire… Viene l'allezo, viene l'allezo. Allé, viene, viene, viene. Iniziamo, viene, va, vai. Ora adoro, è l'allezo. L'abbiamo, viena, viena, viena. Viena, viena, viena. Viena, viena, viena. Questa è l'avosita, viena. Viena, il muro, viena. Viena, viena, viena. Viena, 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 viena. Oh Dio! Un specchio! E' un baretto! La situazione... Andiamo a vedere il secondo piano! Partiti! No, ci siamo appena svegliati Dopo esserci fermati a Bebe Ci sono usciti un po' di persone Il nuovo giorno ha inizio Il cammino dell'equipaggio Tutto più caldo I nostri amici stanno passando A dare la colazione Che è inclusa nel prezzo del biglietto E questa mattina abbiamo Avena E tre pagnotti Che buona! Il sancurro Che comunità è sempre Il sancurro Benveni alla comunità Il sancurro Il sancurro Putta becca! Per l'ora di pranzo Il riso Inmancabile con fagioli, pasta alla bolognese, come la chiamano qua, e un pezzo di caffè, vediamolo. Stop a San Pablo. E questo è il gelato di aguaje, non male. L'ultima sera in Perù, e siamo qui con un sacco di gente, al bar, con buona musica peruviera, che fai già, che fai già dorme, che fai già fai. È arrivato a Santa Roda. Siamo arrivati, adesso ce ne andiamo per migrazione, è buon appetito. BAM! Andiamo in Colombia. BAM! 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 andiamo a pescare piraña, ma stiamo imbarcando acqua il programma per Manaus siamo pronti ad andare hola ci sono addirittura gli uncidi per appendere le amache vedo che qua ci sono tutte le cabine e qua questa è la mia amaca sono arrivando altre persone e siamo quasi pronti per partire salutiamo Tabatinga e ci dirigiamo verso Manaus primo giorno di 4 vediamo 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 eccesso e doccia spettacolo acqua acqua potabile ecco piccolo stop a Benjamin questa è la coda per andare a cenare tupperware del bicchiere è una cucina bella 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 buongiorno 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 qui 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 è in controllo è il tempo libero si leggia è mio amico è oggi 4 mi dormivo molto bonito bene grazie Buongiorno 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 Siamo quasi arrivati a Manaus Difficilmente Manaus scesi dalla barca Un quarto in aula Siamo partiti dalla volta di Santa Rem Da Manaus Questa è la quarta barca Ed è piena Zeppa di gente L'incontro tra il Rio Negro e il Rio Amazonas Siamo arrivati a Sant'Erem Siamo arrivati a Sant'Erem Grazie Non c'è per me, non c'è per me. Non c'è per me, non c'è. Non c'è per me. Non c'è per me, non c'è per me. 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 Per me.